buongiorno ragazzi e bentornati sul canale di affari a 4 skate sono le 6 di mattina e mi sono svegliato presto oggi per farvi un vlog scusate se sono un po buio stile film horror dicevo farò un vlog su quella che è una giornata ideale di rally andrò a vedere rally di bassano la tappa sarà la tappa sarà la vastagna 1 quindi vastagna fosa una delle più belle secondo me merita assolutamente il mondiale non so perché non sono ancora venuti a correre qua quelli del vrc attendiamo con pazienza e niente ragazzi io sto attendendo il mio tassista personale che venga a recuperarmi ecco il mio tassista si vola su le lancette invisibili belli di bassano stiamo arrivando mi sono vestito poco fai zoomino pericolo carottine due minuti carottine due minuti Grazie a tutti. 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 Mille fabia. Grazie a tutti. 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 Fabia. Fabia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.